L'applicativo che andremo oggi ad esplorare, Google Photo, di solito è conosciuto più come una repository, un archivio, cioè di fotografie sulla cloud, piuttosto che per le interessanti potenzialità che esso può offrire in ambito didattico. Allora, andiamo a cercare Google Photo, andiamo sul nostro motore di ricerca Google, andiamo sui 9 puntini, quadratino con i 9 puntini che caratterizza tutte le app di Google, clicchiamo sopra e andiamo a cercare Foto. Ecco qui, clicchiamo sull'icona e siamo appunto portati dentro questo applicativo. Come vediamo qui abbiamo un menu a sinistra con tutta una serie di voci, foto, che è appunto questo livello in cui ci troviamo, esplora per cercare le foto quando ne abbiamo caricate, il solito strumento di condivisione, perché noi possiamo condividere alcune foto con alcune persone, oppure interi album, fotolibri, che è uno strumento a pagamento per creare dei veri e propri album. Abbiamo poi i preferiti, cioè all'interno della raccolta non possiamo andare a pinnare alcune foto come preferite in maniera tale da trovarle subito, e poi abbiamo la possibilità di costruire un album con le foto che sono presenti appunto su questa repository, utilizzare questo strumento interessantissimo delle utilità su cui torneremo in questo video tutorial e poi gli strumenti dell'archiviazione delle foto e del cestino. Andiamo su questa invece barra in alto, dove troviamo ancora una volta lo strumento della ricerca, dell'esplora, quindi cercare le tue foto. Questo strumento interessantissimo ci permette di caricare le foto direttamente appunto dal computer oppure da Google Drive, e lo strumento naturalmente ci permette, che è quello della guida, e le impostazioni, e il solito quadratino con i 9 puntini per portarci in qualche altro applicativo di Google. La prima operazione che dobbiamo fare naturalmente è quella di caricare le nostre foto, e allora clicchiamo su carica le foto, prendiamo dal nostro computer e cominciamo a caricare le nostre foto. Ne prendiamo alcune naturalmente, e le carichiamo sul nostro PC. Ecco, queste sono le foto praticamente che noi abbiamo. Qui c'è una piccola panoramica in cui appunto ci ricorda di aggiungerle all'album, torneremo tra poco, oppure potremo naturalmente creare un album condiviso, ma di questo parleremo tra poco. Quindi, di fatto noi ora siamo nella sezione foto, e abbiamo caricato queste nostre tre foto. A questo punto possiamo naturalmente decidere per esempio di condividere alcune di queste foto, e la condivisione naturalmente può avvenire con le persone con le quali vogliamo lavorare per esempio su alcune foto. Ma andiamo al nostro album, quindi ci sofferminiamo sull'album, clicchiamo su album e ci dà la possibilità di creare l'album. Possiamo crearlo da qui, oppure possiamo crearlo da qui. Crea un album. Ovviamente la prima operazione che dobbiamo fare è quella di mettere un titolo, che potrebbe essere per esempio Atene. Ecco qua. Una volta che è dato il titolo, ovviamente ci ricorda che l'album è vuoto e dobbiamo aggiungere le foto. Clicchiamo su Aggiungi foto e le selezioniamo tutte. Ecco qua. Possiamo naturalmente fare, ecco qua, selezionare come ci suggerisce con il tasto e la maiuscola, e una volta che abbiamo selezionato queste foto, ovviamente clicchiamo fine. Le foto vengono aggiunte all'album. Che differenza c'è tra quelle foto e queste che ora ci troviamo qui? Beh, dobbiamo immaginare che nella repository, cioè in foto, io ho caricato soltanto queste tre, se ce ne fossero, centinaia, è chiaro che nell'album io posso trovare quelle specifiche. Poi quello che è interessante è che posso naturalmente lavorare su quest'album, perché gli ho dato un titolo, ho raccolto le foto che hanno a che fare con questa specificità, con questo titolo, e poi che cosa posso fare? Ecco, posso per esempio ordinare le foto, quindi le posso mettere in ordine quello che ovviamente decido io. Posso allo stesso tempo aggiungere delle foto, se casomai ho dimenticato una foto, due, tre o altre, le posso tranquillamente caricare in un secondo momento. Posso condividere queste foto, e quindi l'album condiviso, e su questo naturalmente abbiamo la possibilità sia di digitare l'indirizzo mail, quindi cercare le persone attraverso Google, contatti naturalmente, oppure creare il nostro link, e quindi inviarlo alle persone che vogliamo, appunto, che condividano con noi queste foto, oppure possiamo caricarle direttamente su Facebook o su Twitter. Vediamo un'altra possibilità, ecco, le altre opzioni, questi tre puntini in verticale, e ci dà tutta una serie di interessanti opzioni, cioè ci dà la possibilità di fare una slideshow, e torneremo anche su questo, di scaricare tutte queste foto sul nostro computer, modificare l'album, oppure ci dà naturalmente la possibilità di opzioni, altre opzioni sono appunto quelle della condivisione delle persone, possiamo condividere tramite il link, appunto, rendendo possibile questa condivisione. Ma per ora, naturalmente, a noi non interessa, perché si tratta delle solite, diciamo, possibilità di condivisione, collaboratore, commenti, oppure soltanto collaborazione tramite il link, e quindi può invitare le persone. Torniamo invece alla nostra operazione precedente, cioè avevamo visto le opzioni in posta copertina dell'album, quindi posso anche scegliere quale di queste foto può rappresentare, può essere, deve essere la copertina dell'album, e quindi ho scelto questa. Nello stesso tempo, posso naturalmente anche nascondere, vabbè, dagli album, oppure eliminare gli album, quando ovviamente quest'album ritengo che non vada bene. Nello stesso tempo, posso aggiungere un commento all'album stesso. E questo è quello che posso fare, ovviamente, con l'album. Torniamo indietro, e, come vedete, nella sezione album, mi trovo questo album. Ovviamente con i soliti tre puntini, clicco sopra sui tre puntini, posso rinominare l'album, perché il titolo non mi piaceva, posso condividere l'album, oppure posso nascondere e eliminare l'album vero e proprio. Da questo più, appunto, posso creare un altro album, e qui posso, ovviamente, organizzare le foto in un ordine particolare, cioè, tra il più recente al meno recente, ma in questo caso, naturalmente, essendoci soltanto un album, questo tasto non ha senso. E ora andiamo a vedere questa sezione utilità. Clicchiamo sopra, e come vedete, troviamo una serie di aspetti interessantissimi. filmato, animazione, collage. Proviamo a lavorare sul collage, cominciando al collage. Ecco, ci chiede come vogliamo, con quali foto vogliamo creare questo collage, e noi, ovviamente, selezioniamo la prima, selezioniamo la seconda, e selezioniamo anche la terza. E andiamo sul pulsante Crea, e creiamo questo collage. Ci diamo la possibilità, naturalmente, al momento di costruirlo, ed ecco che ci ha costruito questo collage di queste tre foto che noi abbiamo voluto utilizzare per questo collage. E questo è uno strumento interessante, perché non è soltanto un fatto di mettere in bella forma alcune foto, ma di fatto serve anche per costituire, per esempio, tutta una serie di pagine con delle foto specifiche. All'interno, per esempio, di questo nostro viaggio ad Atene, queste foto riguarderanno, in particolar modo, l'Acropoli. Poi ce ne saranno altre che, ovviamente, andranno a prendere in considerazione altre bellezze di questa città. Torniamo indietro. Naturalmente, questo collage io me lo ritrovo sempre nella repository generale, cioè foto, quindi dobbiamo tornare su Utilità e andiamo a esplorare le altre possibilità. Animazione. Ecco qua. Andiamo su Animazione. Anche in questo caso io devo scegliere quale sono le foto che devo utilizzare per l'animazione. Clicco sempre le mie solide tre foto e, nello stesso tempo, quando ho cliccato, vado su pulsante Crea. Vediamo che cosa mi sta creando. Praticamente mi crea un slide show. Quindi la possibilità, appunto, di vedere queste foto. Naturalmente c'è l'indicazione animazione, ci sono i suoi strumenti di condivisione che io posso utilizzare. Posso, nello stesso tempo, pinnare, quindi aggiungere ai preferiti questa mia animazione e posso, ovviamente, lavorare, scaricare questo album, aggiungere a un album, aggiungere a un album condiviso, archiviarlo e utilizzare lo strumento, appunto, dello slide show, cioè, vederlo, praticamente, a tutta pagina e scegliere io quando queste pagine devono, ovviamente, cambiare. Torniamo indietro e andiamo a vedere, siamo ovviamente riportati sempre nella repository, cioè in foto. Qui ci sono non solo le tre foto da cui noi siamo partiti per il nostro progetto, ma c'è anche il collage e c'è anche, come vedete, l'animazione. Andiamo a fare l'ultima possibilità in ordine, ovviamente, di complessità. Abbiamo visto prima il collage, quindi delle foto messe insieme in un modo particolare. Abbiamo visto lo slide show, quindi l'animazione delle immagini stesse e ora andiamo a vedere addirittura il filmato. Che cosa consiste? Si apre questa pagina, danno le possibilità di usare dei template, appunto, per esempio, per la crescita dei figli, filmato miau, filmato ba, ovviamente, con i cani. Ricorda un affetto che non c'è più, ma in effetti questo strumento si può utilizzare anche per alcune giornate internazionali, eccetera. Selfie, non hanno i sorrisi, festa della mamma, festa del papà, San Valentino, insomma, con anche altre possibilità che vengono date, come storie d'amore, eccetera, ma noi andiamo sul nuovo filmato, quindi un filmato bianco. Clicchiamo, appunto, su questo filmato, andiamo a recuperare le nostre solite tre foto, clicchiamo su crea e vediamo un pochettino che cosa succede. Dobbiamo aspettare qualche secondo e vediamo come ce lo compone il nostro Google Photo. Come vedete sembra una slide show, ma non lo è. Infatti abbiamo innanzitutto un'impostazione default del filmato in maniera verticale, ma lo possiamo cambiare. Eccolo qua, proporzioni, andiamo su proporzioni e possiamo avere la proporzione orizzontale. non solo ci rendiamo conto che ci sono appunto delle diapositive messe qui in successione, troviamo questi soliti tre puntini che ci danno la possibilità di inserire una clip, di duplicare o di cancellarla qualora appunto non ci piace. Possiamo aggiungere altre foto e altri video a questo video appunto che noi stiamo costruendo e possiamo addirittura cambiare la musica. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo filmato avrà come tappeto musicale anche una musica. E allora se ci va bene così ovviamente lo dobbiamo ascoltare cliccando su questo triangolino che farà partire il video con la musica di sottofondo. Ci va bene, ci piace allora a questo punto va bene così. E come vedete man mano che va avanti le slide vanno avanti e noi vediamo questo template. Naturalmente non lo state sentendo perché questo strumento di registrazione non riproduce il suono del computer. Ma se questa musica non ci piace noi andiamo su questa nota musicale c'è scritto cambia musica clicchiamo sopra e possiamo o togliere la musica perché non ci piace non vogliamo assolutamente un tappeto musicale oppure possiamo andare a ricerca di una musica predefinita e come vedete possiamo trovare nella sezione spettacolare elettronica oppure riflessiva entusiasmante oppure allegra quindi ci danno delle possibilità. all'interno ovviamente di queste categorie spettacolari possiamo cliccando sopra scegliere il tipo di musica che ci fa piacere e questa musica sarà in automatico diventerà il nostro template. A questo punto se siamo contenti del prodotto clicchiamo salva e ci metterà naturalmente un pochettino qualche secondo per salvare questo filmato e questo filmato ce lo ritroveremo naturalmente sempre nel nel reparto foto e questo è il filmato dobbiamo pazientare ancora qualche minuto tra poco questo filmato appunto si presenterà come filmato con questo sfondo grigio e il nostro prodotto sarà pronto per la visualizzazione e queste sono alcune straordinarie possibilità che noi possiamo possiamo appunto fare utilizzando Google foto al di là naturalmente di quelle che sono diciamo per cui è nato lo scopo per cui è nato questo strumento cioè conservare delle foto ci sono altre possibilità naturalmente legate a una moltiplicazione dei progetti per esempio noi possiamo attraverso il tasto condivisione non soltanto condividere con una persona il nostro progetto ma di fatto dare distribuire una serie di sotto argomenti quindi sotto raggruppamenti di foto a diversi gruppi di classe e in questo modo far lavorare alcuni ragazzi gruppetti di due tre ragazzi su un aspetto specifico questo permetterà naturalmente soltanto un cooperative learning ma anche è la possibilità di ogni gruppetto di poter incidere anche sul prodotto finale il rispetto naturalmente delle consegne il rispetto naturalmente del compito che gli è stato dato e tutti si sentiranno ovviamente partecipi di questo progetto vediamo allora quelle possono essere le ripercussioni didattiche di questo applicativo cioè di google photo e anzitutto google photo nasce per documentare e allora in ambito scolastico cosa possiamo fare l'esempio più diciamo vicino a quella che è l'origine di google photo è quella di documentare un'uscita didattica oppure documentare un viaggio di istruzione sicuramente ma possiamo documentare un evento che si è svolto nella nostra scuola possiamo anche documentare un'attività sportiva che può essere stata svolta insieme con altre scuole oppure un convegno a cui abbiamo partecipato ma possiamo anche utilizzare questo strumento per documentare alcune assemblee di istituto quelle incentrate su temi particolarmente significativi che hanno visto casomai un primo momento assembleare con un esperto estero e un secondo momento con le classi che hanno lavorato sul tema e sulle indicazioni date dall'esperto sul tema trattato oppure potrebbe essere utile documentare i percorsi o le competenze trasversali e da portarli appunto anche all'esame può documentare anche un'attività di gruppo un'attività di un piccolo gruppo all'interno di una classe oppure anche l'attività laboratoriale potrebbe essere utile per documentare la riflessione fatta in classe o per classi parallele su alcune delle più importanti giornate internazionali che appunto si ricordano a scuola nello stesso tempo le foto possono anche raccontare qualcosa si può attraverso le foto raccontare la propria scuola ma si può anche raccontare la storia della propria classe anno dopo anno e più nello specifico possiamo anche raccontare di noi stessi attraverso l'evoluzione che abbiamo avuto nel corso per esempio di questi anni nella scuola oppure nello stesso tempo possiamo raccontare in maniera visiva le letture che abbiamo fatto e quindi documentare attraverso per esempio un selfie con la nostra persona il libro che abbiamo letto queste tappe fondamentali della nostra crescita e non soltanto fisica la nostra attraverso la nostra attraverso la nostra